dopo aver registrato l'episodio il video sulla bituminaria bituminosa proprio poco distante ho visto delle piante che erano state quasi estirpate queste piante qui delle piante di inula inula viscosa anche conosciuta come di trichia viscosa e chiaramente tu che stai ascoltando sappi che anche questo è un podcast video come quello che era stato fatto sulla bituminaria bituminosa in questo periodo va così come dire mi ritrovo a parlare di queste piante perché sono molto interessanti io sono francesco cecchetti e questo giardino rivelato il podcast che da oltre quattro anni vuole parlare con le persone che pensano che abbiamo tutte e tutti bisogno di un giardino e mi sembra importante parlare di quelle piante per noi che viviamo soprattutto nel bacino mediterraneo di quelle piante che crescono nel bacino mediterraneo che sono piante che possono essere utilizzate nei nostri giardini o che magari crescono già nei nostri giardini ma che noi per un motivo per un altro non amiamo non decidiamo di utilizzare addirittura combattiamo proprio come accade nel caso della inula o di trichia viscosa questa pianta in particolare l'ho presa da un terreno che era stato appena arato e la pianta era radice all'aria era molto come dire sofferente sono riuscito a prendere un po di terra in una busta mi hanno prestato della una busta e quindi a roma sul treno con questa con questa pianta nella nella bustina l'ho messa in questo vaso in come soluzione temporanea queste due invece si trovano ancora nell'acqua l'ho appena messa nell'acqua e le devo le devo mettere a dimora nella terra comunque anzi prendiamo questa questa pianta questa pianta è una pianta che appunto si chiama inula o di trichia viscosa viscosa perché se si toccano le foglie si capisce insomma che c'è qualcosa che ti rimane appiccicato sopra è una pianta aromatica non è necessariamente l'aroma più buono del mondo ma è un po un po pungente per alcuni versi può essere per alcuni potrebbe essere anche quasi agrumato anzi se conosci questa pianta dimmi secondo te che aroma è un'asteracea è un'asteracea quindi diciamo una specie di margherita che ha delle radici molto molto potenti delle radici fittonanti che scendono in profondità e questo la rende difficile da estirpare difficile da prendere se non la volesse provare a prendere in un posto in cui non la desidera è difficile da contrastare perché è una pianta che fa un sacco di semi fa un sacco di frutti i frutti di questa pianta di questa seracea sono degli aceni un aceno un acenio è come un seme di girasole come una castagna è questo frutto legnoso che poi rilascia il seme ora questa pianta nello specifico è una camifita una camifita che vuol dire che ha il tronco legnoso ed è una camifita frutticosa cioè è un arbusto di fatto per dire un'altra camifita fruticosa è il mirtillo ci sono anche camifite su fruticose come può essere invece la salvia che hanno appunto una base legnosa e poi una parte erbacea che tende a seccarsi invece questa qui cresce fa un cespuglio no camifita mi sono sbagliato una camifita è una pianta che fa un portamento globoso cioè spuglioso e fruticosa vuol dire invece che fa appunto questo frutice questo arbusto legnoso e quindi cresce cresce può essere un ciuffetto di 30 centimetri di 50 centimetri o anche di un metro e sicuramente le hai viste a bordo strada nelle fessure delle dei marciapiedi in aree abbandonate con questi fiori gialli tanti fiori e poi magari qualche ramo ecco tipo un ramo legnoso che spunta dal da questo ciuffo secondo me una bella pianta che può essere utilizzata e che in realtà è molto studiata per le proprietà medicinali per gli effetti che può avere sulle irritazioni veniva usata per fare impacchi sulle come dire sulle punture diciamo punture sulle irritazioni da medusa e in più come pianta aromatica veniva utilizzata anche dai greci dai latini per come dire per aromatizzare l'area un po come si faceva anche con l'artemisia quello però magari era per per ottenere degli effetti particolari cosa interessante che ho scoperto da poco è che questa pianta veniva chiamata tabacco e il nome uno dei nomi di questa pianta era tabacco perché perché tabacco deriva da una parola così ho letto potrebbe essere sbagliato se lo sai anzi per favore fammelo sapere con un commento il tabacco era un impacco un qualcosa che si faceva lavorando queste foglie con questo unguento con questo con questo prodotto medicinale poi si potevano curare varie cose come delle irritazioni ora io non so perché poi per qualche motivo forse però delle assonanze la nicotiana che da che noi chiamiamo oggi tabacco è diventata il tabacco vero e proprio fatto so che questa pianta è una pianta che è molto odiata è molto odiata perché cresce ovunque perché si risemina ovunque e quindi la gente non se ne riesce a sbarazzare eppure fa paesaggio cioè fa proprio tanto paesaggio leggevo su dei report che sono stati fatti in inghilterra che nonostante sia una pianta molto utile che può colonizzare i terreni terreni inquinati cose di questo tipo bisogna stare attenti perché proprio per la sua facilità nel resistere a all'inquinamento a fattori negativi può presenta delle caratteristiche di invasività è invasiva è considerata invisiva anche nel suo ambiente d'origine che è il mediterraneo si tratta sicuramente di una pianta che nonostante abbia convissuto a lungo con le popolazioni che abitano questi luoghi non mi sto girando i luoghi cioè il mediterraneo è una pianta molto mediterranea per qualche motivo non ha lasciato molto il segno e meno dell'ortica l'ortica almeno è conosciuta se io ti dico conosci l'inula non non la conosci di questo ne sono abbastanza sicuro e quindi secondo me è una pianta molto interessante una pianta interessante interessante per i nostri giardini prova a vedere se c'è nel tuo giardino prova a coltivarla prova a vedere come reagisce alle potature prova a vedere in che modo puoi inglobarla nei tuoi terreni vedi cosa succede se la di sei un una coltivatore coltivatrice hai un giardino hai delle coltivazioni non ti piace dimmi perché oltre il motivo che non riesco a sbarazzarmi parlami dei danni che ti fa questa pianta così che magari possiamo aiutare le persone che ce l'hanno nel giardino invece pensano di poterla coltivare per capire cosa farci come come ci possiamo lavorare secondo me è un'ottima soluzione ad esempio per un balcone per un terrazzo mediterraneo per una pianta che resiste molto bene al caldo che ama stare in pieno sole e che in realtà fa anche un bel effetto fammi sapere che ne pensi lasciami un commento qui sotto questo video questo episodio questo podcast perché un video podcast e condividilo con persone che odiano la inula la dittrichia viscosa e ti invito a iscriverti a giardino rivelato perché così più persone possono scoprire la dittrichia l'inula e possono saperne di più e magari odiarla o amarla e usarla sul proprio terrazzo giardino balcone vienimi a trovare su giardinorivelato.it così possiamo rimanere in contatto e magari perché no chissà lavorare insieme e a questo punto io ti ringrazio di aver passato questo tempo con me e con la scusa del parlare dei giardini abbiamo parlato anche dell'inula che ci ringrazio di giardino